Allora ragazzi, siete tutti invitati in Polonia, un paese meraviglioso, potete credermi, ci vivo da diversi anni e la gente qui ama la pallavura. Siete tutti invitati a partecipare ad un evento incredibile, la partita di apertura degli europei 2017, Stadio Nazionale di Valsavia, 60.000 persone in diretta vedranno una partita di pallavolo. Essere lì dentro è un'esperienza unica. Primo appuntamento di Szczecin per la Nazionale Italiana di Pallavolo contro la Repubblica Chececa, la Slovacchia e la Germania, tre grandi partite. Così seguite la vota nazionale, Nazionale Italiana di Pallavolo, la migliore del mondo in Polonia durante gli europei 2017.